Diciamo che anche noi nel servizio non eravamo molto positivi, Avvocato Mori. La nostra Arianna diceva molto probabilmente questa direttiva passerà a livello, quindi l'iter legislativo che dovrà passare, ce lo può spiegare? Non è a diretta applicazione, quindi comunque ci sarà un passaggio parlamentare. Questo potrebbe dare una chance per cercare di bloccarla, però insomma, ahimè non mi sembra che il governo sia così spavaldo nel difendere l'interesse nazionale di fronte dell'ingerenza dell'Unione Europea, che fa questa manovra semplicemente per dare un ulteriore colpo, possibilmente di grazia alla loro idea, a risparmio nazionale, perché questo è sempre stato l'obiettivo. Vi ricordo che l'edilizia è stato un bersaglio già all'inizio, quando arriva Monti, con il colpo di stato del 2011, colpì auto, edilizia, nautica. Auto l'abbiamo visto, edilizia di nuovo e ora vedremo anche cosa tireranno fuori anche per la nautica. Quindi si vanno a colpire quei settori che sono per definizione tra i nanti della nostra economia. Tant'è vero se abbiamo avuto un piccolo respiro nell'ultimo periodo è stato legato proprio al bonus del 110%. Finché potevano circolare i crediti si creava di fatto nuova moneta a questo punto, perché era una forma di moneta e funzionava benissimo come moltiplicatore. Nel momento in cui il governo si piega i diktat europei e rifiuta l'accedibilità del credito, ecco fatto che non ci sono le risorse per portare avanti questa agenda. Perché intendiamoci, se la volontà fosse fare un massiccio intervento di spesa pubblica per espandere la base monetaria circolante, quindi far ripartire l'economia sarebbe un intervento interessante. Ma loro non ragionano mai in logica espansiva, ragionano in logica di austerità. Quindi i soldi li vanno a prendere le tasche dei cittadini, che non ne hanno abbastanza, quindi crolla il prezzo di mercato, crolla il valore e il risultato di questa operazione è un esproprio dal basso verso l'alto. Quindi dalla classe media va verso i soliti gruppi economici e finanziari che si organizzeranno per fare man bassa dei grandi immobili. Questo è il risultato che l'Unione Europea si prefigge, ma d'altronde serve con gli interessi lì. Cioè loro sono lì per servire gli interessi ai grandi gruppi del potere economico. Si capisse qualcosa anche del modello costituzionale di cui si è parlato anche in questi giorni a Sanremo. Magari qualcuno potrebbe ricordarsi che forse, forse, l'accentramento di ricchezza nelle mani di pochi e l'ideologia liberista sarebbe messa al bando della nostra Costituzione, perché si riempono sempre la bocca dell'antifascismo, in realtà la nostra Costituzione è antiliberista, quindi non vorrebbe l'accentramento di ricchezza nelle mani di pochi, che poi ha una conseguenza politica. La ricchezza centrata nelle mani di pochi diventa un potere politico laddove influenza le scelte della politica e dei parlamenti. A quel punto il Parlamento è il passacarte del potere economico con buona pace alla democrazia. Questo spiega porcate come quella che abbiamo sentito nel servizio. Sì, perché poi quello che è successo anche con il Qatargate ci suggerisce che determinate decisioni che vengono prese da lì. Io ero andato a Bruxelles, adesso non ricordo se era il 2014-2015 al Parlamento, invitato dal 5 Stelle per una conferenza euroincubo quando ancora facevano la parte euroscettica. Vedere il Parlamento era incredibile, perché tu ti rendevi conto di come funzionava, perché vedevi i lobbisti che giravano dentro il Parlamento con le varie hostess, valigette, andavano dai singoli parlamentari a chiedergli di approvare i loro emendamenti. Così funziona, ma l'ho visto dieci anni fa. E ora che mi escono fuori le tangenti per l'approvazione di determinate norme, ma è l'acqua calda. Funziona totalmente così. È il paradiso della corruzione, anche perché nella logica di chi ha voluto queste istituzioni dovrebbe essere addirittura legale, secondo loro. Il lobbismo è negli Stati Uniti lecito. Loro vogliono semplicemente che si è dichiarato chi è che finanzia chi. Ma fondamentalmente rimane comunque la morte della democrazia, perché l'eletto del popolo non fa gli interessi del popolo, ma di colui che lo paga. Punto. Questo è lo schema che era visibile e sappiamo che tutto funziona in questo modo. Speriamo che le indagini non si fermino allo scandalo dei mondiali, ma che approfondiscono altre tematiche, come ad esempio i famosi messaggi spariti sul vaccino per le linee, che, voglio dire, bene o male, avrà avuto determinati rapporti con il CEO di Pfizer. Quindi, insomma, veramente l'acqua calda. Basterebbe che la magistratura indaghi avrebbe sicuramente materiale per far cadere pare chiedeazza. Grazie.